Solo pochi giorni fa un enorme pino è crollato sopra sei auto posteggiate lungo viale dei promontori ad Ostia. Una macchina è andata completamente distrutta, le altre sono state danneggiate. Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto nell'incidente, altrimenti oggi parleremo di una tragedia. Nella zona però gli abitanti sono molto preoccupati perché solo poco tempo fa si è registrato il crollo di un ramo a poca distanza e temono che possano continuare a verificarsi altri cedimenti. Io penso che sia venuto giù soprattutto per il peso del ramo stesso. Qualcuno ha parlato di fulmine ma non c'è nessun segno di fulmine. Forse sono troppo appesantite queste chiome? Sono appesantite le chiome, i rami sono molto grossi. Poi credo anche che i pini abbiano le radici superficiali quindi c'è anche il rischio di crollo totale. Soprattutto io credo questi che stanno di merce a piedi. Questo non è il primo, questo è il secondo perché questo se ne è spaccato uno qui a pochi metri qua, fa davanti. Poi c'è questo qui di fronte, vede che c'è il ramo rotto? Sì. Ecco là. Dentro potreste vedere altre piante con i rami rotti caduti a terra, abbastanza grossi, mi sembra che non le abbiano ancora tolte. Tre giorni fa un altro ramo grosso. Quindi insomma qua è un continuo? È un continuo, sì sì. Se non vengono curati come è accaduto questo qua il rischio ci potrebbe essere, un rischio potenziale. Vede che ogni pino è scontrassegnato da un numero, questo rappresenta un impegno che si era presa alla precedente gestione. Non si era stato più fatto il lavoro, però si era stato preventivato vuol dire che era il lavoro necessario. Almeno per il momento gli automobilisti hanno scelto di non sostare al di sotto di questo norme pino dal quale il ramo si è staccato, ma è evidente che il pericolo è anche per tutti gli alti arbusti. Lei parcheggia sempre qua in zona o evita? Evito. Io preferisco sulla strada, qui non parcheggio mai. Il prossimo sarà quello là, questo ramo esterno, questo ci farà piangere, specialmente a me che io abbia il primo piano, quindi se cade questo mi va proprio addosso, sul palazzo insomma. Quindi voi non siete preoccupati solo per le macchine, per i pedoni? Temete che cadano proprio sui palazzi? Anche sì, perché non sono curati. Questi vanno puliti, vanno votati spesso. Non è l'unica zona dove gli alberi sono a rischio crollo, per questo è necessaria una verifica urgente sullo stato delle alberature di tutto il territorio. In Viale dei Promontori la situazione è particolarmente critica. Come d'altronde anche ad Ostia Antica, qui un arbusto è caduto su un'auto parcheggiata, il conducente era appena sceso dalla vettura.